C'è una bella notizia, la bella notizia è che Dio, il Buddha, l'energia o come lo vogliamo chiamare esiste, la notizia ancora più bella è che non siamo noi, quindi siamo umani e in quanto esseri umani ci sta chiaramente che siamo suscettibili alle difficoltà e non siamo gli highlander, sempre al massimo, che hanno la capacità di essere sempre super performanti anche in termini di motivazione, quindi ci sta che ci siano degli up and down che sono tra parentesi proprio anche gli up and down della vita e quantomeno pretendiamo da noi stessi di essere perfetti, quanto meglio gestiamo le difficoltà mano a mano che arrivano perché se non altro ci priviamo della difficoltà aggiunta di voler essere super performanti, quindi già abbiamo qualcosa da risolvere all'esterno, se poi inseriamo qualcosa anche dentro di noi da dovere e voler a tutti i costi gestire diventa tutto ancora più complicato. Quello che suggerisco io è per gestire, non tanto per essere sempre all'eccellenza, per mantenere sempre alta la motivazione, ma quanto piuttosto per imparare a danzare proprio nelle difficoltà, imparare a gestirle e comprendere la necessità di affrontarle un po' alla volta, un passo alla volta, quindi anche l'idea di adesso che cosa accadrà, un momento affronta la giornata a mano a mano con le difficoltà che arrivano durante la giornata perché a mano a mano anche tu acquisisci nuove comprensioni e tra parentesi ti relazioni con ciò che è veramente reale in termini di problemi o comunque di cose da risolvere e non tanto con ciò che è ipotetico e immaginario che ti crea dello stress aggiuntivo che magari insomma non ha neanche ragione di esistere. Pertanto io direi Mariada, è inutile negare le difficoltà, è inutile negare l'incertezza e la possibilità che magari un domani ci siano dei cambiamenti significativi. Tutto ciò premesso danza con questi cambiamenti un po' alla volta, è veramente come una danza, verso me vengono in mente le figure del tango, si compongono facendo un movimento in sequenza dopo l'altro, non pensano di fare tutto il volteggio in una volta, quindi anche rispetto alle difficoltà della vita muoviti un passo alla volta, usa degli strumenti che ti permettano di restare più facilmente nel presente come per esempio la motivazione ma come anche delle domande di autocoaching, a cosa mi serve pensare a questo? È reale? Sarà veramente così? E magari nella tua mente scopri che la domanda è, ma c'è proprio la certezza al 100% non ce l'ho, ci sono delle possibilità, ok allora un momento, validiamo e affrontiamo ciò che è certo, perché dell'incerto ce n'è già fin troppo, evitiamo di anche crearne dei loop all'interno della nostra mente. E tra l'altro questa tua risposta si allinea molto anche alla domanda di Silvia Misaglia che scrive, che chiede come può mantenere il focus sui suoi obiettivi quando sono comunque ancorati, sì ad una situazione presente, nel senso che ci sta lavorando ma anche ad un futuro incerto. Eh sì, ma infatti a me è questa domanda, perché mantenere il focus sugli obiettivi nella mia mente, in che modo si relaziona l'instabilità, perché l'obiettivo è una cosa e l'instabilità sociale è un'altra e il fatto che ci sia un'instabilità non significa che tu debba necessariamente distrarti dai tuoi obiettivi, perché sono un'altra cosa dal contesto, quindi ho pensato e qui permettetemi faccio delle gran letturone della mente che non sa da fare per un coach, ma non avendo, questo non è un setting di coaching insomma, non avendo la possibilità di farvi delle domande dirette, allora devo cercare un po' di ragionare come se fossi nella vostra mente, ho pensato evidentemente mette in relazione le due cose perché programma il suo lavoro nel futuro, ecco a me viene da dire un'altra cosa, fai delle programmazioni che per carità è necessario comunque avere un minimo di progettualità, evita di andare troppo in là nel tempo, cerca comunque di mantenerle a breve termine, così appunto da capire come puoi sovrascrivere le tue pianificazioni negli avvicendamenti che vivi a mano a mano chiaramente in base a tutto quello che socialmente sta succedendo, perché vi sarete resi conto anche voi sulla base di quello che stiamo vivendo, come le cose da una settimana all'altra cambino radicalmente, cioè è veramente impossibile, a parte il fatto che non abbiamo la palla di cristallo, ma è veramente impossibile pensare adesso, sì ok, se adesso è così domani sarà colà, no perché poi succede una breaking news che scombussano tutto quanto e pertanto abbiamo, se vogliamo, prendiamola come un allenamento per le nostre capacità, di stare un po' più qui, nel qui ed ora, non fare tanti voli pindarici e allenarci ad una progettualità che deve essere, che è importante che sia in questo periodo anche e soprattutto a beveraggio, poi ci sta chiaramente la progettualità di lungo termine, ma sappiamo che ora come ora è molto più funzionale invece gestire quella anche di breve termine.